...intervenire contro i dirigenti che si lasciano andare a comportamenti di questo tipo. Bari, Dracula di Best Driver. La Puglia è una terra di sole e di mare, ma anche di insetti pericolosissimi. I baresi devono dimostrare di essere in grado di usare un apposito kit anti-insetti. Guardate qua. ...non ti preoccupi. Come mettersi con sole? Lei l'ha vista la nuova segnaletica in questa strada? L'avete notata la segnaletica? L'ho visto, lì c'è un cartello, c'è un cartello anche dall'altra parte della strada. Vi faccio vedere che... Lui facciamo sempre questa... Ah, ho capito. L'ha vista questa? È importante, guardate. La prossima volta che vengo a prendere il mio filo da lavoro perché sta senza macchina. Ah, è una strada in cui ci sono degli insetti pericolosi perché fanno sede in quel campo lì e poi attaccano le macchine. Per cui bisogna avere il kit per gli insetti pericolosi. Voi l'avete? No. È una cosa nuova però importante. Cioè, chi non ce l'ha in contrapensione? Sono 322 euro e due punti alla patente. Io li chiedo. Perché attaccano le macchine in maniera molto violenta. In maniera che siamo agitrici. Guardi, facciamo così. Noi possiamo farle vedere l'utilizzo di questo kit. Ok. Lei deve spruzzare questo e con l'altra mano deve scacciare, quella a destra. Deve scacciare. Questi insetti sono molto grossi e molto aggressivi. Sì. Ciao. Ciao. Grazie a tutti. Di fronte ad un avvenimento pericoloso è logico che io ho una reazione, ma se no così a me sembra anche un po' così a cazzo. Quando lei vede questo segnale, presegnale al probabile attraversamento di animali selvatici, ovvero falso. Presegnale alla probabile e improvvisa presenza di animali selvatici, presegnale a una stada di montagna. I baresi si sono dimostrati veramente disponibili, peccato che non esista nessun kit del genere. L'appuntamento è per domani con una nuova trappola e per sabato alle 15.30 con Best Driver, il primo quiz di MTV sull'educazione stradale.